Sono Carolina Ielardi e faccio anche ritratti. Sono i prodotti di Mike e di Monte Factory, tutto materiale reciclato, è camera d'aria di biciclette da cui si costruiscono braccialetti, collane, orecchini e di là abbiamo le sciarpe, tutti i prodotti artigianali fatti a mano. E' le Bears Free Crembo. Fratelli Porcina, parrucchieri, orai, sei the queen!